Eccomi, ti chiedo scusa se ti ho fatto aspettare No, sono appena arrivato Meglio così Ancora grazie per la cena Prego Mi spiace solo non essere riuscito ad esserti utile Forse la bistecca era troppo grassa No, era deliziosa Veniamo a noi Mi chiedevo se ti andasse di scrivere la sceneggiatura di un manga Di un manga? Vedi, la nostra stella emergente Ishijima Deve illustrare un nuovo manga Entrerà nella collana di punta Ed è incentrato sul gioco d'azzardo Lui vorrebbe che lo sceneggiatore fosse uno che se ne intende E senza dubbio io sono un esperto Che cosa ne pensi? La retribuzione sarebbe decisamente buona Il mio nome comparirebbe? Se ti interessa potremmo ricorrere a un nome d'arte Così non rischi di danneggiare la tua carriera Sarebbe meglio Perché sto cercando di finire il mio nuovo libro Il tuo collega non te l'ha detto? No Oh, stando così le cose Io preferisco di gran lunga poi leggere il tuo nuovo romanzo Scusa se mi sono permesso Scusa se mi sono un'altra